Sì, 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 me lo passi, me lo passi. Buongiorno, buongiorno, salve. Sì, Ufficio Affari Generali. Mi dica, vuole sapere... Sì, è stato approvato un recente regolamento. Riguarda la viabilità? Sì, sì, riguarda la viabilità del centro storico. Lei abita in centro? Ok. Sì, il regolamento lo trova sul sito internet. No, 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 non le viene trasmesso a casa. Sì, è un provvedimento amministrativo, ovviamente. Regolamenti sono atti formalmente amministrativi, però sostanzialmente sono normativi. Ora le spiego questo perché. Perché se fosse stato un provvedimento puntuale, individuale, che magari le ordinava di chiudere la strada privata o chiudeva un tratto di strada limitato, 5, 6, 10, 20 abitazioni, allora quel provvedimento l'avremmo notificato a tutti i destinatari in quanto diretti interessati e diretti destinatari. Quando si tratta di provvedimenti normativi? Sì, 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 in quel caso avrebbe ricevuto o una PEC o il MESO, insomma una comunicazione individuale, sia magari dell'avvio del procedimento, sia del provvedimento finale. In questo caso è un provvedimento normativo che limita il traffico, quindi cambiano le regole come se fosse una legge e non è che ogni volta che il legislatore fa una legge la notifica a 60 milioni italiani, esiste uno strumento che si chiama pubblicazione. Sì, sul sito, in realtà c'è una doppia pubblicazione. I regolamenti sono pubblicati in albopretorio, che è una sezione particolare del sito internet, online, online, non esiste più l'albopretorio fisico. In albopretorio online, dove rimangono per 15 giorni, poi vengono spostati i regolamenti nella sezione norme e regolamenti di amministrazione trasparente. Che cos'è? È una sezione del sito, lei va sull'indirizzo principale del nostro sito, trova la scritta amministrazione trasparente e trova tutti i regolamenti dell'ente. Sì, il regolamento entrerà in vigore fra due mesi. No, 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 non dopo dieci giorni, quelle sono normalmente le delibere che dalla pubblicazione sono in vigore dopo dieci giorni. E come detto rimangono 15 giorni nell'albopretorio, poi l'entrata in vigore dipende dalla norma stessa. In questo caso abbiamo dato due mesi proprio per consentire ai cittadini come lei di prenderne notizia. Penso lei l'abbia sentito dai vicini, sì, anche dai colleghi della polizia locale che sono venuti a fare un po' di campagna di sensibilizzazione. E anche il bigliettino. Sì, sì, abbiamo fatto mettere un bigliettino nelle cassette postali proprio per dare comunicazione, dare avviso di questo provvedimento. No, è una logica, insomma, abbiamo fatto un po' per trasparenza. Quindi le confermo, non c'era assolutamente l'obbligo di notificare. Assolutamente. Lei ha diritto di fare richieste di accesso, verificare e anche di impugnare il provvedimento. Se ritiene che sia, ora le spiego questo concetto, immediatamente lesivo, cioè quelle norme già le impediscono suoi diritti, lo può impugnare direttamente. Quindi lei sente un avvocato e potrà fare ricorso al TAR. O direttamente senza avvocato può anche chiederci l'annullamento in autotutela. Viceversa, se non sono immediatamente lesive, perché appunto noi prevediamo un sistema graduale di chiusura al traffico, deve attendere il primo provvedimento negativo, magari, ahimè, la rimozione del veicolo o il momento in cui non viene fatta accedere alla sua abitazione con l'autovettura, allora potrà impugnare quel provvedimento. Però, ovviamente, le consigliamo di avvalersi di un legale. Assolutamente, nessun problema. Nessun problema. Qualunque informazione, chiami pure. Arrivederci. Salve.